Il Parlamento europeo ha votato per vietare la vendita di nuove auto a benzina entro il 2035. Sebbene sia un obiettivo ambizioso, fare pressione sulle industrie affinché investa fondi per la ricerca al fine di accelerare il processo è necessario. Il costo attuale dell'acquisto di un veicolo del genere è troppo alto per la maggior parte dei consumatori, ma gli esperti ritengono che il prezzo diminuirà man mano che i governi e l'industria investiranno. Al momento un'auto elettrica è ancora una proposta troppo costosa per un consumatore, ma con il carburante a questo prezzo attualmente il vantaggio è evidente. Ci vuole davvero uno sforzo statale, bisogna fare uno sforzo paneuropeo per sovvenzionare lo sviluppo di veicoli elettrici. Se dovessero essere venduti al momento sul mercato a loro costo reale non sarebbero competitivi, ma questo può cambiare rapidamente. Si tratta di adattare un'economia di scala, l'importo che viene investito in queste tecnologie, il cambiamento nelle linee di produzione, perché l'intera industria automobilistica europea si sposta dai motori a combustione ai motori elettrici e questi diventeranno più economici per il consumatore. Il regolamento riguarda le nuove auto, mentre per i veicoli commerciali i vecchi motori continueranno ad essere prodotti, ben oltre il 2035. Ci sono anche domande su come garantire che le reti di ricarica siano facilmente accessibili pubblicamente e per la guida su lunghe distanze. Ci sono domande sulla natura ecologica delle batterie per auto e c'è un consenso però sul fatto che il passaggio ai veicoli elettrici sia di gran lunga la soluzione migliore per l'ambiente. Sappiamo che il modo più sporco per far muovere un'auto è usare combustibile fossile, bruciarlo ed emettere anidride carbonica dal tubo di scappamento, quindi i veicoli elettrici sono chiaramente molto meglio. Però ci sono anche altre questioni, ci sono problemi che non si risolveranno come la congestione del traffico urbano, dobbiamo anche sapere da dove prenderemo la nostra elettricità, se la prenderemo dal petrolio russo o saudita, si potrebbe obiettare che abbiamo fatto molti progressi. Se riuscissimo ad ottenere la nostra elettricità in modo sostenibile, questo ci offrirebbe una visione di una mobilità personale potenzialmente, completamente priva di emissioni. È un sogno meraviglioso. La questione passa ai governi europei ed è probabile che la potente lobby automobilistica cercherà di anacquare la legislazione. Il ministro dei trasporti tedesco ha espresso opposizione, mentre Volkswagen afferma che l'obiettivo è raggiungibile. Grazie.